Dottor Sumsky, lei cosa pensa del vaccino e quali sono i possibili effetti collaterali? Io sono uno che per i vaccini è favorevole e ritiene che siano una risorsa e un'opportunità. Ho delle perplessità su questo vaccino, sia per la velocità con cui è stato messo in commercio e perché proprio anche nell'addizione su possibili interazioni a lunga distanza non ce ne sono, bisogna aspettare, quindi chi fa il vaccino sa che per dei eventuali effetti che si rilevassero oltre i tre mesi non c'è nessuna sperimentazione, quindi fa la cavia. Poi il sistema di trasmissione è innovativo perché utilizza l'MRNA messaggero che porta un'informazione con cui l'organismo crea delle difese contro il coronavirus, per carità, non ho nulla contro l'innovazione, siccome il meccanismo è complicato, trasmettere delle informazioni con cui il nostro organismo reagisce e produce anticorpi, sarebbe stato opportuno a maggior ragione, tecnica innovativa, avere più tempo a disposizione per una valutazione completa, non tanto degli effetti collaterali, faccio la puntura, mi fa male il braccio, ho un po' di febbre, un po' di stanchezza che sono comuni a molti vaccini. Ci sono già segnalate eventuali forme allergiche acute, importanti, reazioni anafilatiche, ma anche quello ci sta quando si fa un vaccino. È tutta una serie di problematiche legate alla novità, se io dovessi scegliere, sceglierei il vaccino di AstraZeneca che è fatto con una metodica tradizionale, con il pro e il contro che ha anche questa metodica, che però è molto più sperimentata e quindi almeno so quello che vi vado in conto a breve, a medio e a lungo periodo, perché la tecnica di rendere innocuo il virus e stimolare così la produzione di anticorpi è un po' diversa. Si è voluto accelerare, per carità io ho le mie perplessità, se qualcuno mi dice francamente te lo fai volentieri, non lo faccio, io aspetto. Il Presidente dell'Ordine Veneto dice che è possibile l'idea di sospendere i medici e gli operatori che rifiutano il vaccino. Trovo veramente indecente che un medico si esprima così, perché vuol dire che si assume una posizione dittatoriale, perché non esiste da nessuna parte che bisogna essere obbligatoriamente vaccinati. Non ho capito, con l'influenza che pure fa tantissimi quando ci sono gli anni in cui l'influenza è brutta, non ho mai visto assumere nessuna posizione che è obbligatorio, è consigliato, è utile. Io ribadisco, non sono uno che ha detto che non si vaccina perché non creda ai vaccini. Su questo vaccino mi permette che se no mi viene da pensare che tutta questa animosità, tutto questo interesse sottintenda altre esigenze che non siano quelle della salute. Lei che ha seguito l'emergenza dall'inizio, citiamo anche la vittoria che ha avuto con l'Avvocato Grimaldi sull'idrossiclorochina. Cosa vede oggi nella situazione dei medici? Ci sono ancora due filoni di pensiero, ci sono ancora correnti separate? Chiaramente doveva essere presa in considerazione, mi dispiace che non lo faccia il governatore Zaia, non lo faccia la regione Veneto perché siccome non sono l'unico e non ero l'unico prima, sono tantissimi colleghi che curano così positivamente avendo pochi ricoveri, pochissimi decessi, perché poi non si può barire, ma sono le uniche armi che abbiamo per ridurre effettivamente la pericolosità e sono efficaci, soprattutto non hanno controindicazioni nell'utilizzo che abbiamo in questo periodo. Quindi io non ho visto, non c'è nessuna controindicazione. quindi si fanno equivoci e questo mi dispiace perché si sono poste delle pericolosità del farmaco che si conosce da 70 anni a dosaggi che non sono quelli che utilizziamo nella terapia e per il breve periodo con cui lo utilizziamo, perché lo utilizziamo per otto giorni, non è che lo utilizziamo mesi. Quando Zaia in conferenza stampa ha detto che chi ha probabilmente una cura lo chiami, lei diceva che l'aveva provato a contattare ma non è stato ascoltato. Qualche mese fa gli ho scritto un messaggio, posso chiamarti, mi ha chiamato lui, gli ho parlato di idrossi e clorochina, mi ha detto sì adesso con le regioni stiamo facendo perché la liberino, balle, non hanno fatto niente, l'abbiamo fatto noi con il Consiglio di Stato, e non mi ha chiamato perché io sarei disposto ad andare a parlare ma non per qualche interesse ma proprio l'interesse della gente, io sto per partire e vado verso tra poco a fare una visita, voi capite mi faccio 20 km per vedere una persona malata perché nessuno va a vederla a casa e nessuno gli da la cura e si prende la responsabilità della cura, io non voglio farne eroe, io faccio il medico punto e basta utilizzando delle armi dopo che ho studiato in giro per il mondo cosa può servire e non è vero che gli studi dimostrano che non funzionano, questo mi dispiace, ci sono un fior di studi che stanno venendo avanti che dimostrano che c'è una efficacia nel controllo della malattia, posto che attualmente non esiste nessun farmaco contro il virus, lo sappiamo, però per evitare la degenerazione e la pericolosità, cosa gli diciamo a uno che non ce la fa respirare prendi la tachipirina e prega? Non è possibile! Sì Sì Sì